Fallout un bellissimo gioco che dovreste aver giocato e quando dico dovreste aver giocato intendo Fallout 1 e Fallout 2 e tutto il resto è vergogna, nera, nera vergogna buongiorno, sono AsciutaHatesYou, questo è Breaking Italy e non è sicuramente giorno quando state guardando questo video dicevo, Fallout, videogioco post apocalittico i quali i primi episodi avevano questo aspetto che io trovo bellissimo ma sono sicuro molti di voi trovano rivoltante perché di nuovo sto parlando con degli ignoranti o delle persone molto giovani o comunque non andartene, stavo scherzando torna qui, siediti, stavo scherzando però se non ti piace sei ignorante ma il punto non è la grafica di questo gioco è la storia di questo videogioco che ci fa dire wow, la realtà supera sempre la fantasia perché in questa ambientazione dopo una roba post atomica e quindi bombe dappertutto umanità quasi annientata Kenshiro le persone si nascondono in dei bunker sottoterra e vanno avanti per molti anni nei bunker sottoterra aspettando che sopra le radiazioni scompaiono e questa roba non può ovviamente essere vera a parte che in effetti oggi scopro grazie a Repubblica che in effetti è vera nel senso almeno che questo simpatico signore ha creato queste robe qui che sono effettivamente dei vol sotterranei nei quali si può andare dopo averli comprati costano un po' e non l'intero vault intendo semplicemente l'appartamento perché come vedete sono degli appartamenti con anche delle zone comuni e si può vivere lì spendendo dagli 1,5 ai 3 milioni di dollari e la cosa fantastica è che il primo dei bunker realizzato in una vecchia base missilistica in Kansas è già stato completamente venduto però non disperate perché ne devono costruire un altro ecco il sito del produttore questa roba è troppo bella per essere vera quindi mi raccomando nel caso andate iscrivetevi spendete 3 milioni di dollari e così sarete al sicuro nel caso di catastrofe nucleare nel caso invece di altre cose tipo una guerra anche se vi chiudete all'interno del silos qualcuno da fuori lo aprirà immagino o lo bucherà o comunque potreste morire in qualsiasi momento se avete 3 milioni di dollari non spendeteli in quella cosa dateli a me la prima vera notizia che vi lancio in faccia oggi è in realtà abbastanza triste quindi mi sembrava il caso di aprire con gioia per poi finire nell'omicidio di un bambino di 12 anni del quale abbiamo già parlato visto che molti di voi mi hanno detto come mai non parli del fatto che per due giorni Ferguson, la città che aveva visto un altro omicidio da parte di un agente di polizia ai danni di un ragazzo nero che aveva rubato delle cose poi aveva aggredito il poliziotto poi era scappato il poliziotto gli aveva sparato il ragazzo era morto e quindi una volta che il giudice ha detto non perseguiremo il poliziotto perché ha fatto il suo lavoro era in una situazione di difficoltà quindi ha sparato e ogni tanto quando spari qualcuno muore questo è stato il risultato incendi in tutta la città ci sono stati 44 arresti ci sono stati dei feriti è stata una situazione pazzesca vedere le immagini mi ha davvero fatto passare per 20 minuti la fiducia nel genere umano perché una cosa è manifestare una cosa è distruggere macchine e negozi di gente che non c'entra nulla è la tua stessa comunità siccome vuoi manifestare per proteggere la tua comunità danneggi la tua comunità questa cosa non ha senso e ovviamente è fatta per non avere senso perché ogni volta che succede qualcosa c'è qualcuno che se ne approfitterà però non voglio parlare di quell'omicidio voglio parlare dell'altro omicidio perché c'è un video che lo mostra e parlo appunto di ciò che abbiamo descritto all'inizio della settimana il ragazzino di 12 anni nero in Ohio precisamente a Cleveland con una pistola a giocattolo in mano qualcuno ha chiamato la polizia e da quello che i poliziotti hanno detto il video che state per vedere è stato divulgato proprio dalla polizia di Cleveland che ha detto vedete avevamo ragione noi il ragazzino ha fatto esattamente quello che noi abbiamo detto che aveva fatto ovvero gli è stato detto solleva le mani e lui ha cercato di prendere l'arma però queste sono le immagini che si vedono e questo è uno di quei video che aprono un sacco di interrogativi e si prestano ad un sacco di interpretazioni perché la prima cosa che ho visto quando ho guardato il video è stata una macchina che si avvicina a un tizio e gli spara poi in realtà si scopre che la pistolera finta e il pistolero era un ragazzino di 12 anni riguardando il video a rallentatore effettivamente da un frame sembra che il ragazzino porti la mano invece che in alto in basso verso la pistola però non lo so gentaglia cosa ne pensate perché di nuovo a rivederla così a me sembra che non ci sia praticamente nemmeno il tempo di reagire per il ragazzino di capire cosa sta succedendo sinceramente mi fa un po' paura l'idea che sto camminando per strada un poliziotto mi si affianca mi urla qualche cosa io faccio il movimento sbagliato e vengo freddato miseramente sul marciapiede quindi di nuovo a prescindere mi raccomando fate quello che vi dicono le forze dell'ordine non lasciate la minima possibilità le vostre intenzioni vengano malinterpretate o mal giudicate peraltro se voleste dei consigli e io sono ovviamente la miglior persona per darveli ovviamente per l'amor di dio non fate fotografie con gli orsi l'avevamo già detto quando il genio dei geni aveva deciso di fare delle foto o all'orsa danizza perchè hey cosa può succedere di male e al signore il ragazzo era andata bene ad uno studente di 22 anni di nome darsh petel del new jersey invece non è andata così bene visto che mentre faceva un'escursione con degli amici avrebbero visto questo questa è una delle foto ed è una delle cose che rende fantastica questa notizia che il ragazzo ha scattato dell'orso che piano piano gli si avvicina e quando dico piano piano intendo guardate che un orso è veloce cioè c'è questa idea che l'orso è un animale buono pucciosetto lento l'orso vi mangia la faccia tenetevolo di base come regola di base l'orso vi mangia la faccia perchè poi è quello che è successo in effetti l'orso ha attaccato il gruppo di ragazzi che ha deciso di disperdersi l'orso ha inseguito uno di loro e lo ha ucciso ora sono dispiaciutissimo ovviamente per la morte di un 22enne però di nuovo la vostra sola presenza non c'è bisogno che gli tirate un sasso fa incazzare una bestia che è larga quanto un trattore è pesante quanto un trattore ma meno amichevole di un trattore quindi se vedete un orso andate dall'altra parte possibilmente non cercate di fargli le foto di fare le foto ai cuccioli per l'amor di dio direi anche fingetevi morti però non so se sia una buona idea effettivamente magari qualche esperto ce lo può dire davvero se ti fingi morto io non lo farei personalmente se vedo un orso fatto dall'altra parte e sto apposta un'altra delle cose che molti di voi mi hanno chiesto di trattare in quest'ultimo breaking italy della settimana e cercherò di farlo nel modo più delicato e più superficiale possibile in modo da non offendere nessuno visto che questo è appena accaduto è la morte di un giovane carabiniere di nome Luis Miguel Chiasso morto suicida nella caserma di Roma dove presta la servizio il carabiniere avrebbe rivolto la sua arma contro se stesso si sarebbe sparato nel petto e secondo quanto si inizia ad apprendere prima di spararsi avrebbe chiamato il 112 in stato confusionale avrebbe blaterato delle cose perché nessuno di noi può avere veramente idea di cosa passi per la testa in una persona che si sta per togliere la vita in caso che molte persone sono critiche nei confronti di chi si toglie la vita però di nuovo è una situazione complicata va analizzata bene comunque morale della storia il 112 avrebbe avvisato la caserma e i colleghi del ragazzo che sono andati nella sua stanza lo hanno trovato dopo aver sfondato la porta perché il ragazzo si era chiuso dentro era palesemente fuori di sé e in un lungo post prima di spararsi apparso sul suo profilo di facebook dice di essere Adam Kadmon il famoso personaggio si parla di complotti in televisione è stato al centro di un sacco di cose si è parlato molto di lui su internet l'anno scorso perché tutti si chiedevano chi sarà leggere quello status e poi magari guardare il profilo io l'ho trovato perché è ancora online peraltro è tristissimo vedere i profili delle persone su facebook una volta che sono morte si vede quanto il ragazzo fosse immerso da una parte nelle teorie del complotto parla spesso anche nel suo ultimo post di cose che avrebbe visto del fatto di far parte dei servizi segreti nazionali e internazionali cosa che peraltro sarebbe stata immediatamente smentita e dall'altra mi ha fatto pensare a quanto facebook colleghi tutti noi nessuno escluso ma veramente sia in grado di lasciarci isolati e ragganciandoci alla questione complotti ora molti di voi mi hanno criticato peraltro lo so lo so ieri ho fatto un errore mi stavo anche dimenticando di dirlo ho detto ad un certo punto il vaccino obbligatorio è quello del morbillo invece di quello della polio so che ho invertito le cose sono distratto abbiate pazienza sto male in questi giorni mi sto impegnando lo stesso al massimo per far arrivare Breaking Italy davanti ai vostri musi quindi ogni tanto abbiate pietà comunque tutto quello che ho detto vale lo stesso non è che siccome fai un piccolo errore non siamo come a scuola a scuola se fai un piccolo errore sei fottuto su internet invece è esattamente la stessa cosa se dici A invece che B tutte le persone non ascolteranno ciò che hai detto faranno semplicemente i grammar nazi welcome to the internet questo deve diventare un meme welcome to... vabbè lasciamo stare mi è pure arrivato un messaggio parlando dei complotti dicevo trovo fantastico il fatto che i grandissimi complotti quelli impossibili vengano accettati come assolutamente ovvi da una certa parte di persone che vede il complotto ovunque ma quando ci sono delle cose sporche che però non sono a livello planetario gigantesche a nessuno interessano ora non sto dicendo che sia un complotto potrebbe anche non esserci niente di male dietro tutto questo ma volevo giusto portare all'attenzione del fatto che si sta parlando pochissima se ne dovrebbe parlare un po' di più dello scandalo che sta travolgendo Marine Le Pen questa signora che è a capo del partito ultranazionalista di destra oh mio dio francese avrebbe ricevuto da una banca russa finanziamenti per almeno 9 milioni di euro e quando dico una banca russa intendo una particolare banca russa di proprietà di un oligarca di un tizio amico di Putin considerato molto vicino a Putin il segretario del Front National ha detto subito che aveva cercato prima banche francesi o banche europee che potesse farle credito nessuno ha fatto loro credito e quindi hanno chiesto alla Russia che ha detto certamente ma si sollevano un sacco di domande specie a fronte del fatto che Front National ho fatto il gioco di parole perché sono una persona accolta e simpatica ha aperto canali importanti di discussione proprio con la Russia di Putin definendola spesso un paese amico demonizzato dall'occidente e dicendo che preferisce la Russia all'Unione Europea il che è abbastanza grave specie perché viene dalla Francia alla fine il discorso si lega di nuovo però questa volta non siamo in Italia quindi tutto a posto eh al problema del conflitto di interessi perché metti che un giorno il Front National guidi la Francia ma allo stesso tempo si ritrovi ad essere in debito con una banca che è legata ad un altro paese in questo momento ha dei rapporti molto complicati con l'Unione Europea per le sue interferenze nelle politiche ucraine e quindi cose ma questa gentaglia è tutto quello che avevo da dirvi per oggi grazie per aver guardato oggi Nera mi ha fatto compagnia qui in studio tutto il tempo e voi non ve ne siete accorti perché siete molto molto distrati e soprattutto perché era nascosta sotto un tavolo e quindi non potevate vederla grazie mille a Benedetta e Riccardo che sono la nostra regina Alfiere Perugia hanno fatto questa foto all'aeroporto con me quando sono andato a Lucca hanno girato col cartello sperando di incontrarmi mi hanno incontrato e quindi anche io sono alfiere della mia stessa trasmissione su Youtube ci vediamo domani con la live alle 18 Nera ma quanto pesi? ci vediamo domani con la live non alle 18 alle 16 e quindi grazie per aver guardato love you long time vuoi salutare? no